Le guide possono cambiare. Cerchio e seno attraverso NT domanda È possibile conoscere il nome della nostra guida? Alexander Se anche dicessimo a ciascuno di voi il nome e cognome della guida che vi sta seguendo, non potreste comunque avere un riscontro oggettivo, perciò è utile che sappiate solo questo. Ognuno di voi, anche di noi, quando siamo incarnati, gode della presenza, della protezione e dell'aiuto di una guida che è sempre superiore al vostro livello evolutivo. Non può essere altrimenti. Un maestro elementare non potrebbe mai andare ad insegnare in una università, vero? Capite cosa voglio dire? Mentre il maestro elementare è utile per gli alunni delle prime classi e naturalmente ha conoscenze superiori a quelle da loro possedute. Alle loro attuali cognizioni, vero? Ad alcuni di voi è stato detto o quantomeno indicato in maniera ufficiosa quali sono le loro guide attuali. Ma sappiate che nel corso dell'esistenza le guide possono cambiare perché se voi salite nel livello evolutivo necessariamente deve subentrare qualcuno che sia ad un livello ancora superiore. Capite? Capite?